Ci hanno condotto ad una corsa accelerata per la presentazione degli emendamenti che rappresentano poi delle proposte da parte dell'opposizione di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'amministrazione della regione per quanto possibile in piccolo. Sicuramente anche noi abbiamo sofferto e soffriamo moltissimo questa modalità operativa e di lavoro che non ci consente in pochissimo tempo di avere una visione analitica e dettagliata di tutto ciò che riguarda la manovra di bilancio, che la manovra più importante di una regione a mio avviso è di un ente che sia la regione o anche più piccolo e merita a mio avviso il giusto tempo, il tempo debito che consenta una discussione veramente democratica e approfondita. Mi soffermo in breve su quelli che sono, noi non abbiamo presentato emendamenti ostruzionistici in tal senso perché visto il tempo esiguo abbiamo preferito anche concentrarci sugli emendamenti che a nostro avviso apporterebbero veramente un miglioramento alla gestione delle risorse finanziarie. E su questo mi soffermo, per esempio nella legge di stabilità, in particolare all'articolo 2, quando si parla dell'addizionale regionale dell'IRPEF, abbiamo proposto, mentre nel testo che ci è arrivato c'è una conferma dell'aumento operato con la legge regionale 2 del 2013, noi proponiamo che non si applichi quella maggiorazione, una maggiorazione che farebbe soffrire ancora di più le famiglie che stanno in grosse difficoltà economiche. E se proprio si debba rimodulare quella liquota, quantomeno abbiamo proposto una rimodulazione che vada a pesare meno sulle famiglie che percepiscono un reddito basso fino ad incrementare, ad aumentare il peso nei redditi che sono superiori ai 75.000 euro. Così come abbiamo proposto che le entrate derivanti dalla maggiorazione dell'aliquota non venga inserito genericamente nell'ambito della prima missione del programma 3, ma almeno una parte vada a finanziare la legge che istituisce il reddito minimo garantito, quantomeno le entrate della regione che derivano dall'aumento della pressione fiscale dei contribuenti quindi vada a, diciamo, esca dalle stesse casse a sostegno di chi veramente non ce la fa ad arrivare non a fine mese ma alla seconda settimana del mese. Queste in linea generale sono le nostre proposte più significative per quanto riguarda questa legge di stabilità. Rimane l'incognita, rimane da capire anche quello che accadrà poi con il collegato, se si farà, quello che verrà disciplinato e anche lì mi auguro che avremo tempo sufficiente a disposizione e non venga fatto tutto di corsa come è stato fatto con il bilancio. Per quanto riguarda la legge di stabilità, anche dovuto un po' all'innovazione legislativa di cui abbiamo detto, una cosa che a mio avviso soffre il Consiglio è il non poter determinare quanto va a copertura di una legge piuttosto che di un'altra. Mi spiego meglio, nel famigerato quadro A, cioè l'elenco allegato delle leggi che necessitano di copertura finanziaria, ci sono capitoli che vanno a finanziare, per esempio, più leggi, oppure c'è più leggi finanziate da un unico capitolo. Allora lì il Consiglio, che è l'organo legislativo, non ha la possibilità di determinare il quantum per ognuna, cioè non può decidere, possiamo decidere di finanziare la missione e il programma, ma non possiamo determinare quanto di quel capitolo andrà a copertura di una legge piuttosto che di un'altra, cioè di tutte quelle leggi che vengono finanziate con lo stesso capitolo. E questo è un problema, a mio avviso è un problema anche di, non solo tecnico, ma proprio di democrazia e di legislazione, cioè sul fatto che, perché il Consiglio che legifera, è vero che noi non governiamo, l'opposizione non governa, però nel potere che ha di indirizzo, almeno indirizzare il quantum, vada a copertura di una o di un'altra legge, ovviamente è un fattore importante. Non mi dilungo su altro, interverrò poi, mi riservo di intervenire sui singoli emendamenti. Chiedo di intervenire il Consiglio Sbardella.